Un sorriso che arriva in volo ai piccoli pazienti del Giovanni XXIII di Bari è quello portato dai piloti delle frecce tricolori che hanno deciso di concludere la loro presenza in Puglia per i 100 anni dell'aeronautica trascorrendo del tempo nei reparti dell'ospedale pediatrico. I piloti hanno incontrato i pazienti e hanno svelato loro i segreti che si nascondono dietro le acrobazie e le manovre che la scorsa domenica hanno disegnato nel cielo di Giovinazzo. Per noi è un momento importante perché la missione delle frecce tricolori è quella di rappresentare l'aeronautica militare e le forze armate ma è anche quella di ispirare soprattutto i più giovani e quale migliore occasione di stargli accanto in un momento di difficoltà. Noi non pretendiamo di fare i miracoli anche perché i miracoli qui li fanno gli assistenti sanitari, medici, infermieri. Noi cerchiamo di portare semplicemente un momento di serenità, un sorriso ed alleviare un momento che è particolarmente gravoso per la loro famiglia. Non si tratta soltanto di un momento di serenità ma anche di un'iniziativa che potrebbe avere un forte valore per i piccoli pazienti. Adesso le frecce tricolori stanno girando per i reparti e con i loro gadget, i loro sorrisi, le loro divise stanno dando un momento di serenità ai bambini e alle loro famiglie ed è innegabile che queste iniziative contribuiscono in maniera determinante per far sì che i bambini possano guarire in serenità e con l'affetto di tutti.